Buongiorno ragazzi, da qualche anno a questa parte e all'interno della grande community italiana dell'outdoor si è cominciato a parlare di bushcraft. Non ricordo esattamente quando questo termine è uscito fuori quello che ricordo è che io ho cominciato a frequentare forum e gruppi facebook dedicati all'outdoor più o meno nel 2010 ed ancora non se ne parlava. Quasi dieci anni dopo questa parola magica bushcraft sembra essere sulla bocca di tutti all'interno del nostro piccolo mondo di appassionati della vita all'aria aperta tutti lo praticano e coloro che non lo praticano vogliono sapere che cos'è e cosa serve per iniziare avendo un canale dedicato all'outdoor queste sono domande che ricevo anch'io molto molto spesso oggi voglio cercare di dare delle risposte cercando di essere rapido e soprattutto cercando di arrivare al nocciolo della questione se cerchiamo su google cos'è il bushcraft il primo risultato che esce fuori è l'immancabile pagina di wikipedia che ci dice che il bushcraft è un insieme di conoscenze e tecniche atte a vivere in ambiente naturale sfruttando le risorse per soddisfare i bisogni primari quali cibo e rifugio normalmente le tecniche utilizzate sono basiche e primitive e fanno affidamento sulle conoscenze acquisite dall'uomo durante la sua evoluzione il bushcraft non fa affidamento su attrezzature moderne e tecnologiche privilegiando al contrario l'uso di pochi attrezzi elementari con i quali costruire il resto più sotto abbiamo l'etimologia vediamo che è una parola inglese composta da bush più craft ci dice che il termine era già in uso in australia e sud africa nel 1800 che poi è diventato popolare nel resto del mondo grazie a personaggi come morsko ciaschi e ray mirz quindi in parole povere fare bushcraft significa campare di sussistenza nei boschi a questo punto penso che non si abbia difficoltà a capire che in italia il bushcraft non esiste perché nessuno campa di sussistenza nei boschi e se lo fa di certo non carica video su youtube o sui social dato che vive nel bosco e non ha internet acquisita questa consapevolezza secondo me dobbiamo smettere di parlare di bushcraft e cominciare a parlare di ciò che noi intendiamo sia il bushcraft ecco se voi vi fate un giro su youtube a guardare tutti i canali dedicati all'argomento compreso il mio o vi iscrivete a tutti quei gruppi facebook che hanno la parola bushcraft nel titolo troverete tutta una serie di cose adesso ve ne elenco alcune giusto a titolo di esempio troverete escursioni in montagna e nei boschi per notamenti in tenda o in rifugi fabbricati con dei teli troverete gente che taglia la legna chi con l'accetta e chi con il coltello c'è chi accende il fuoco c'è chi si fa il caffè con la bushbox c'è quell'altro che cucina i fagioli nella pentola di ghisa c'è persino chi infila una stufa dentro una tenda ecco tutte queste cose hanno già un nome si chiamano escursionismo trekking e campeggio e sono attività che qui da noi si praticano da sempre dai tempi degli antichi romani come disse Dave Canterbury all'expo oh ma allora perché da 5-6 anni a questa parte abbiamo cominciato a chiamare tutto questo bushcraft eh chi ci capisce bravo è una domanda a cui non so rispondere probabilmente è successo nella maniera più classica il giorno qualcuno ha cominciato a parlare di bushcraft perché ha letto questo termine da qualche parte lo ha sentito magari guardando qualche canale estero e tutti gli altri gli sono andati appresso se l'origine del fenomeno non è chiara quello che è assolutamente certo è che fa tendenza seppur all'interno di un mondo abbastanza ristretto provate a dire ai vostri amici cittadini oh ieri sono andato a fare escursione se mambe ti sto sfigato i vecchi vanno a fare escursioni provate invece a dire oh ieri sono stato nel bosco a fare bushcraft minchia bushcraft e mo che è sta roba mi fanno fare subito lo scatto di carriera da semplici sfigati che eravate adesso diventate strambi che è già un grosso passo avanti quando qualcosa fa tendenza tutti coloro che gravitano all'interno del meccanismo devono per forza adeguarsi a questa tendenza se vogliono far parte del gioco noi creatori di contenuti in ambito outdoor non facciamo eccezione siamo costretti ad utilizzare il termine bushcraft per essere compresi al volo dal nostro pubblico in alcune situazioni ogni tanto c'è qualche genio che viene sotto ai commenti a scrivere ah ma questo non è bushcraft è campeggio io devo ricorrere a tutto il mio charme per spiegare a questi signori che lo so benissimo è quello lì è campeggio ma se io scrivo campeggio il video non lo guarda nessuno perché ormai quelle cose lì la gente le conosce come bushcraft il bushcraft fa talmente tendenza che di recente alcuni hanno creato dei veri e propri brand attorno a questo fenomeno hanno creato community di utenti molto attivi sui social ai quali puoi proporre i loro prodotti e i loro servizi in un mondo sempre più frenetico dove la gente è sempre più stressata in molti hanno riscoperto le attività outdoor come valvola di sfogo ma fermi tutti siamo nell'era di internet dove oggi invento qualcosa e domani è già superata la gente è alla ricerca dell'innovazione delle cose fresche ecco il bushcraft in questo senso da una bella svecchiata al mondo ormai consunto delle escursioni e dei pernottamenti in tenda svecchiata che si attua però solo nella forma perché nella sostanza sempre di quelle cose li stiamo parlando dunque una volta chiarito o almeno ci ho provato a chiarire che cosa si intende per bushcraft vediamo cosa serve per iniziare a fare bushcraft il mio parere è che per iniziare a fare bushcraft serve una solida cultura escursionistica bisogna avere tutte quelle nozioni che consentono di affrontare in sicurezza un'uscita in un ambiente naturale isolato questo significa avere una buona forma fisica saper leggere una cartina e conoscere la segnaletica dei sentieri sapere come vestirsi per proteggersi dal caldo e dal freddo sapere quali sono le precauzioni da adottare quando ci si avventura in ambienti isolati come si può affronteggiare al meglio un'eventuale situazione di emergenza è inutile che vi comprate il coltello o l'accetta se non avete mai fatto un'escursione in vita vostra il primo passo è uscire e andare a conoscere la natura a meno che non vogliate fare bushcraft nel giardino di casa vostra a questo proposito può essere utile frequentare un corso di sopravvivenza perché nei corsi di sopravvivenza vi insegnano quali sono le cose importanti che dovete portarvi appresso quando venite in montagna come si maneggiano in sicurezza gli utensili da taglio cosa dovete fare per fronteggiare un'eventuale situazione di emergenza e così via ragazzi ho detto che sarei stato breve ma mi sa che mi sono già dilungato abbastanza quindi portiamo il discorso alla conclusione ci tenevo a dirvi la mia su questo argomento ma mi interessa anche la vostra opinione quindi andate nei commenti e scrivetemi che cosa serve secondo voi per cominciare a fare bushcraft oppure se siete dei principianti ancora meglio scrivetemi come vi state approcciando al bushcraft quali sono le azioni che avete intrapreso quali sono i vostri punti di riferimento ricordatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime avventure state bene ragazzi e ci vediamo ad un prossimo video